Questo è l'hotel Sangor di Tatawin, l'ingresso da scritta sulla montagna spazzano l'acqua nel tetto e il cielo su Tatawin non promette nulla di buono neanche stamattina il fatto che Tarek metta tutta questa roba ci fa poco sperare girano e lui lavora per proteggere bene i nostri bagagli siamo nella città di Tatawin questa è la sede del Partito Socialista Democratico pasticceria artigianale da cui forse porteremo a casa qualcosa entrando al mercato di Tatawin ho appena comperato un delizioso ombrello per aumentare la collezione siamo al mercato scusa mancano il cibo che banchetto di spezie siamo in un altro ma neanche troppo che bello il dinosauro qua cosa ci fa? questa dobbiamo fare la foto della Ginevra chiama i dinosauri Ksar Aulet Debeb questa è la pianura ai nostri piedi ancora deserto di pietra Ksar Aulet Debeb ok Ksar Aulet Debeb Ksar Aulet Debeb fino al 2000 è stato in abitazione popolare adesso la gente abita nel fondo valle verrà ristrutturato dallo Stato e diventerà un albergo a quattro stelle il dinosauro riprodotto sta ad indicare che un pion di 500 mila anni fa vissero dei dinosauri queste montagne segnano il confine con la Libia siamo nel punto più vicino per la Libia entriamo vedi che hanno ristrutturato hanno fatto un bar che ha qui là? Ksar Aulet Debeb ecco le acque scorrono per noi in base del barbara senti l'afila e il simbolo dei berberi l'afila e il simbolo dei berberi la porta della fila bella entriamo all'interno dell'orosare perché ci sono i gradini qui alla mia destra c'è un salato c'è un fresco incredibile avanti uuh che bello guarda un salottino alla mia destra un altro salottino che bello e qua bisogna venire col principe azzurro e qua le vuole se no le vuole che vuole ciao che faccia? guarda che bene roseghiamo torniamo indietro vedi? belli scorci torniamo indietro sul soffitto vecchio vecchia foto ecco l'interno dello xar il cortile interno stupendo delizioso veramente ecco bello bello non prendere il carino prendere il carino non vedete Libia eh si è stati però a Gadamese no guarda su saluta fai ciao con la manina brava che cos'è che cos'è?